stando al wrestling observer le trattative per il rinnovo dei diritti televisivi americani dovrebbero concludersi con la permanenza di raw su usa network più incerta la situazione di smackdown visto che questa fonte non ritiene che fox intenda aumentare l'offerta economica per mantenere in palinsesto il programma a fronte di una wwe che invece si aspetta un sostanzioso incremento della proposta anche warner bros discovery potrebbe entrare nella partita ma ad ora le informazioni su questo gruppo editoriale sono alquanto contraddittorie in una recente intervista carmella ha confermato che a gravidanza terminata intende riprendere la carriera da wrestler e tornare ad esibirsi nel ring ringside news ci informa che dalle indiscrezioni raccolte la wwe guadagnerà un'ingente somma dalla slim gym che ha deciso di sponsorizzare la battle royal di summerslam pare inoltre che la federazione abbia dovuto fare posto nella card al suddetto match proprio in virtù dell'accordo con tale inserzionista eliminando così due contese femminili ormai mature per lo show come becky lynch contro trish stratus e ria replay contro rachel rodriguez in una recente intervista kevin owens ha rivelato che nel 2018 si è trovato col morale sotto ai tacchi perché in wwe era impegnato in vicende che non gli sembravano importanti il suo impegno ha assicurato non è mai venuto meno ma in generale aveva perso il divertimento da sempre collegato alla sua professione in una recente intervista becky lynch ha rivelato che sta scrivendo un libro sulla sua vita e sulla sua carriera e che i lavori sono già in fase parecchio avanzata tanto che l'opera salvo ritardi dovrebbe essere disponibile sugli scaffali già nei primi mesi del prossimo anno da un post di set rollins su twitter ecco le scarpe che il visionario intende indossare a summer slam per provocare fin ballor e ricordargli che gli ha rovinato gli ultimi sette anni di vita e di carriera sono sempre di più le star wwe appassionate di calcio italiano ecco ad esempio alexa bliss allo stadio di orlando per l'amichevole tra juventus e real madrid con il suo tifo tutto per i bianconeri i bianconi i bianconi i bianconi i bianconi Grazie a tutti.